Il rettissimo 191 di prima e seconda tasse, diretto a Venezia Santa Lucia, è in partenza all'ordinario 3, ferma Brescia, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova, Venezia Mestre, è presso a servizio di prima e seconda tasse, treno rapido 973 di prima e seconda tasse, diretto a Villa San Giovanni e in partenza all'ordinario 1, ferma a Gioia del Colle, Taranto, Metaponto, Sibari, Corigliano Calabro, Rossano, Cariani, Grotone, Catanzaro Lido, Soberato, Roccella Ionica, Siderno, Locri, Merito di Porto Salvo, Reggio Calabria Centrale, i signori viaggiatori devono essere muniti di supplemento rapido. Esprezzo 1336 Adria Express, di prima e seconda tasse, con servizio letto e cucente, diretto a Monaco di Barriera, in partenza all'ordinario 3, ferma a Rimini, Ravenna, Ferrara, Padova, Venezia, Santa Lucia, Odine, Tarvisio, Sillac, Plagenfort, Broc, Anderwall. Direttissima 68, Brenner Express, di prima e seconda tasse, con servizio letto e cucente, diretto a Monaco di Barriera, in partenza all'ordinario 3, ferma a Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Grovereto, Trento, Nesto Corona, Bolzano, Bressalone, Fortezza, Brennero, Estro, Costai. Brescia, stazione di Brescia, rapido 95, di prima e seconda tasse, proveniente da Torino, Porta Nuova, in diretto a Venezia, Santa Lucia, in partenza all'ordinario 1, ferma a Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova, Venezia, Mestre, i signori viaggiatori devono essere muniti di supplemento rapido. Direttissimo, Treno del Sole, diretto a Palermo, è in partenza all'ordinario 4, ferma a Asti, Alessandria, Genova, Piazza Principe, La Spezia Centrale, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Roma Uffiense, Napoli Centrale, Salerno, Paola, San Teofenio, Lavezia, Villa San Giovanni, Messina Marittima, Messina Centrale. Effettua a servizio di prima e seconda classe, con carrozze letti di sola prima classe e cucette di prima e seconda classe.